Sintesi tra le varie anime della coalizione ma anche degli stessi partiti. E' questa, tanto nel centro-destra quanto nel centro-sinistra, la parola chiave che viene ripetuta dai diversi esponenti interpellati sulle amministrative per il Comune dell'Aquila del 2017. Nel centro-sinistra la situazione è ancora tutta in fieri, nel centro-destra invece c'è già un candidato, Luigi D'Eramo con noi con Salvini, e un altro che potrebbe a breve annunciare la sua discesa in campo, l'ex sindaco di Villa Sant'Angelo per Luigi Biondi, che verrebbe appoggiato da una serie di liste civiche, oltre che, molto probabilmente, anche da Fratelli d'Italia e Casa Pound. E forse Italia, difficile che rimanga a guardare. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il Comitato Comunale ed è iniziato un percorso che porterà alla primavera del prossimo anno. Se con un candidato proprio o di coalizione, lo abbiamo chiesto all'onorevole Fabrizio Di Stefano, uno dei leader del Partito Azzurro in Abruzzo. Io guardo ovviamente con estrema positività questa vivacità, finalmente vivacità, del nostro ambiente qui sull'Aquila. L'abbiamo sollecitato, l'abbiamo sperato e finalmente c'è qualcosa che si muove. La candidatura finale sarà un qualcosa che verrà accaduta. Oggi l'importante è creare un progetto politico condiviso da parte di tutte le anime del centro-destra e non solo del centro-destra, di collocare con quei grandi stati di popolazione che magari non sono inquadrabili nei partiti politici, ma che seguono con attenzione le dinamiche specie amministrative della città per offrire un'alternativa all'Aquila, per un'alternativa necessaria, visto che a mio avviso questa amministrazione lo dimostra la quotidianità, non ha dato le risposte che invece i cittadini si aspettavano e che il territorio e la città meritavano. Per quanto riguarda la candidatura, io mi sono sempre speso perché anche il centro-destra ricorresse quando loro non dovesse trovare condivisione su un'unifica candidatura allo strumento delle primarie. Ma prima ancora di arrivare a questo, io credo che vada la pena di scandagliare il più possibile il tessuto sociale aquilano per verificare se al di là di chi ormai è perfettamente inserito nel discorso politico cittadino, se ci sono anche altre figure professionali di qualità e di competenza che vogliano provare a dare il proprio apporto per il rilancio della città.